ben ritrovati nuovo su review you vi mostro una giacca acquistato alcune settimane fa il prezzo di acquisto 96 euro adesso sono andato a guardare su amazon e costa pensato un po 75 euro un bel prezzo scontato devo dire che avessi aspettato un po di giorni l'avrei trovata magari scontata però mi serviva per l'inverno e devo dire che non me ne pento dell'acquisto però mi lascio il link in descrizione di questo modello specifico e di questa colorazione soprattutto così potete un po cliccare voi e se la trovate in offerta magari scrivetemelo qua sotto se siete riusciti ad acquistarla 75 euro è un prezzo davvero accessibile perché di solito superano anche il negozio i 100 euro queste giacche infatti l'ho comprata a 96 euro su amazon allora vi faccio vedere com'è allora questa è la colorazione è bello perché c'è tutti queste diciamo non texture ma queste cuciture che la rendono unica a differenza delle imitazioni all'interno la tasca è più scura taschini con i bottoni marcati levi strauss quindi stupenda è originale a differenza di chi diceva magari non è originale di qui di qua è veramente originale si vede guardate anche qua in cuoio l'etichetta io l'ho presa come taglia ci sono diverse taglie sml c'è chi diceva prendetela una taglia sopra una taglia sotto diciamo che sono alto vi dico quanto sulle le mie misure così capite sono alto un metro e 73 peso all'incirca 63 64 kg e ho preso una s quindi mi va giusta non è stretta e non mi va quindi neanche troppo diciamo larga la volevo che mi stesse appunto giusta e con un maioncino sotto si sposa benissimo va benissimo qua è il pelo ovviamente se possiamo definirlo così morbidissimo c'è una taschina dove io ci metto dentro le cuffiette e portafogli e la parte anche carina è qua questo marroncino nella parte dentro il colletto che si può volendo anche tirare sopra e vi mostro anche la parte dietro mi piaceva questa colorazione si chiama scerpa se non erro e come vedete anche qua le maniche hanno il bottone e quasi può volendo anche stringere un ottimo acquisto mi piace tantissimo una giacca da avere sicuramente nell'armadio e poi adesso questo prezzo ne comprerei quasi un'altra ma ovviamente mi basta questa e devo dire che è davvero carina questa è la colorazione di questo modello trovate anche però un jeans più scuro o anche c'è la colorazione nera con il pelo nero diversi modelli però io vi lascio proprio il link diretto a questa giacca originale e in questa colorazione tra l'altro non pesa neanche poco riscalda veramente parecchio e una cosa che in molti dicevano ma non è originale di qui di qua alcuni si lamentavano del fatto che il bollino rosso non avesse la scritta levis in ogni caso anche se non c'è la scritta levis è comunque originale però nel mio caso come vedete mi è arrivato con la scritta levis quindi ancora meglio mostra appunto il marchio e ben venga ottimo prodotto validissimo per l'autunno per l'inverno e niente se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela alla prossima review